Pausa del dissing dopo la presunta denuncia, come ne hanno parlato anche testate giornalistiche importanti nei suoi confronti, la Comi, archiviata situazione esposito, risponde a una serie di domande sulle Instagram Stories. Qualcuno le chiede, ma ti interessa il riscaldamento globale? Ma ti preoccupi per l'ambiente? Ma non è il caso che spiegare così tanta carta, posta, danneggiare, qua 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 qua? Ebbene lei risponde così ragazzi. Ma voi iscrivetevi al mio canale e attivate la campione della notifica perché siete numerosissimi a guardarlo ma ancora pochi a essere iscritti. Per cui ragazzi fatelo, fatelo, fatelo. Lo che succederà tra 80 anni, 100 anni, io non avrò neanche figli perché non li voglio. Non vi faccio problemi per il futuro come non se ne sono fatti quelli del passato perché se adesso siamo in questa situazione sicuramente è per questo. Andateci voi ad abbracciare gli alberi e pulitevi il culo con poca carta. Io il culo me lo pulisco con tanta carta perché lo voglio bello pulito. Splendente. Sono stronza per questo? Sì, va benissimo, ma almeno non mi puzza il culo, ok? Quindi no, non me ne frega un cazzo del riscaldamento globale. Anche perché è meglio che l'essere umano si estingua. Già mi vedo le battute. Ah sì, perché c'è gente come te. E tu che cazzo fai per salvare il mondo, eh? Sei Superman? Allora prendi il volo e vai a fare il cazzo.